Cerebrare la vita in luoghi che si pensano senza speranza, inchinarsi all'amore del prendersi cura, al coraggio del compiere quell'ultimo tratto di strada insieme. Consapevolezza è la mostra fotografica di Marco Grassi che da sabato 22 ottobre fino al 13 novembre nella sala del San Leone a Pietrasanta racconterà il quotidiano del reparto cure palliative dell'ospedale di Livorno, dai briefing alle terapie, dai volti dei pazienti alle attese dei familiari. Gli scatti, circa 30, sono stati realizzati tra gennaio e aprile 2019, tutti in bianco e nero meno uno, i disegni fatti dai bambini e dei pazienti ricoverati all'ospis. Per motivi di carattere familiare mi sono avvicinato a questo contesto, scrive il fotografo livornese, e ho cercato di dare visibilità ad una realtà che esista ogni giorno, che molte persone annullano dai loro pensieri per poi riscoprirla nel momento del bisogno, raggiungendo così la consapevolezza che medici, volontari, infermieri e impiegati ci sono sempre stati e hanno lavorato sempre duramente. La mostra, promossa dal Comune di Pietrasanta e realizzata in collaborazione con Hospice e l'Associazione Curie Palliative di Livorno, sarà aperta a ingresso libero da mercoledì a venerdì in orario 16-19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.